Un giro per negozi Che facciamo? Torniamo a casa? No, no, devi aiutarmi a scegliere un vestito per la festa di laurea di Antonio Ma non pensi che per oggi sia abbastanza? Avrai speso quasi 700 euro Ma no, ecco, entriamo, dai Aspetta Guarda questa camicia Non mi piace il materiale Ho paura che il lavatrice si restringa Dici? E questa? Credo che siano tutte in cotone misto a sintetico Infatti guarda, le lavi un paio di volte, poi le butti È normale che si rovinino dopo un po', però non fa niente Aspetta, prova questa È lino, 100% naturale Ma c'è solo in grigio e nero, non è meglio che prenda qualcosa di più vivace? Il nero va bene su tutto, poi è molto elegante Va bene, vado a provarla Vedi? È perfetta Eh sì, hai ragione Credi che abbiano anche gonne da abbinarci? No, Anna Bisogna che tu ti dia una calmata Seriamente Ah, perché non passiamo all'outlet di Via Nazionale? Credo che apra anche la domenica No, ascolta, ascolta Voglio che tu mi consegni la tua carta Subito Ma scherzi? Dammi la carta Paghiamo la camicia e poi a casa No, lascia la borsa Per favore, dai, basta No, ascolta No, ascolta, ascolta No, ascolta, ascolta Pagano No, ascolta